Ringrazio il pubblico, i tifosi che sono venuti in gran numero, credo sia un aspetto vitale per lo Spezia per raggiungere, come ho detto anche il primo giorno che sono arrivato, l'obiettivo finale. Le partite in casa e non solo saranno importantissime e quindi avere l'apporto e l'appoggio del nostro pubblico sarà di vitale importanza. Questa è una partita importante, però non è che è l'ultima partita che un risultato cambia il nostro futuro, è chiaro che è un risultato positivo, ci dovrebbe dare slancio a quello che è il lavoro dei ragazzi, al mio lavoro, a quello che voglio trasmettere ai giocatori, però qualsiasi tipo di risultato che avverrà non sarà determinante poi per l'obiettivo finale. Il Verona in queste ultime partite ha dimostrato di avere acquisito un DNA importante che l'allenatore gli ha trasmesso, è una squadra molto aggressiva, è una squadra che viene apprendita di uomo contro uomo, è una squadra molto brava a rubarti palla e a ripartire in maniera veloce, è una squadra che non molla mai, è una squadra che ha caratteristiche precise. Bisognerà ribattere colpo su colpo, bisognerà cercare di essere anche noi molto aggressivi, molto di più di quello siamo stati, specialmente a Udine, e quindi anche sull'aspetto del palleggio bisognerà migliorare questo aspetto. Io sto cercando di lavorare non solo a livello tattico o tecnico, ma anche a livello mentale, per cercare di far sì che loro abbiano quella libertà che una squadra come lo Spezia deve avere per affrontare ogni tipo di gara, che poi si possa giocare contro il Verona o contro l'Inter la prossima settimana. Insomma, Zurkowski per me è un recupero importante, è un recupero che penso ci possa dare una grossa mano. Chiaro che ora, dopo una settimana di allenamenti, non è nella condizione migliore, però già avendo recuperato può essere importante anche a partire da domenica.